Siamo con Guido Madella di KFI, tanto buongiorno e grazie per aver accettato questa intervista. Non siete nuovi al Global Summit, quindi qualche pillola sulla vostra esperienza al Global? Evento molto interessante, molto qualificato, è il secondo anno che partecipiamo a questa manifestazione qui alla Zise e la reputiamo molto valida per trovare dei buoni contatti. Gli incontri sono tipicamente di alto profilo, quindi con gli interlocutori si possono trattare argomenti specifici e come diciamo sempre noi trovare subito quelli che sono i loro mal di pancia da risolvere, questo sostanzialmente. Visto che abbiamo parlato di mal di pancia, che tipo di medicina propone KFI? Di cosa vi occupate principalmente? KFI si occupa da 25 anni di proporre tecnologie e soluzioni per efficientare i processi di business legati alla logistica, sia di stabilimento che distributiva. Nell'ultimo anno abbiamo creato una nuova business unit che si dedica esclusivamente a questa attività con un approccio consulenziale, quindi partiamo da quella che è l'ESIS del cliente, quindi andiamo assieme a vedere i processi, a mappare i processi, definiamo col cliente quelle che sono le criticità, le inefficienze e andiamo a proporre un percorso diciamo 2B che porti verso il miglioramento del processo del mal di pancia verificatosi, introducendo nuove operative ma anche nuove tecnologie. Perché credo sia bene ribadirlo anche in questo contesto, ma è una cosa che diciamo sempre in continuazione, il miglioramento dei processi e l'efficientazione è sicuramente una voce importante sia di risparmio ma sia anche di maggiore produttività. Sicuramente, poi spesso affrontiamo questi problemi con aziende italiane che fanno parte di multinazionali, quindi queste aziende italiane hanno il loro primo concorrente in seno sostanzialmente, perché da un giorno all'altro in certi casi potrebbe essere che la produzione che non è efficiente in Italia venga spostata nell'est Europa ma se non addirittura in Cina, quindi la tecnologia e l'efficienza dei processi è l'unica strada che può permettere alle nostre aziende tricolori di fare la differenza rispetto agli altri.